Secondo Tina Knovles, madre di Beyoncé, l'eventualità che la figlia divorzi dal rapper Jay Z sarebbe frutto di una mera invenzione. La donna si dice convinta che i due stiano ancora bene insieme, allontanando di fatto le voci che li vorrebbero in procinto di divorziare. Intervistata dal sito TMZ che è riuscito a strapparle solo qualche scarna dichiarazione, la signora Knovles tiene a precisare che non ci sarebbe alcuna separazione nell'aria. Anzi, si dice convinta che i due non potrebbero essere più felici di così. Il suo matrimonio è perfetto tuona di fronte ai curiosi, smettendo in maniera autorevole le voci di crisi. I gossip sul divorzio sono settimane, ormai, che le voci relative al presunto divorzio tra il rapper multimilionario e la sua bella moglie continuano a rincorrersi. La profonda frattura della loro storia che avrebbe messo a rischio il tour si è rivelata essere un allarme infondato. La torne che li vede protagonisti insieme prosegue senza che nessuno dei due abbia manifestato alcun tipo di malessere. Eppure, i tabloidi d'oltreoceano ne sono convinti. Bayeon Chee avrebbe ormai preso la sua decisione e starebbe attendendo solo lo scoccare della metà di settembre per uscire allo scoperto. In quella data, infatti, il tour terminerà ufficialmente, permettendogli di respirare e ripartire con la vita di sempre. Solo allora, la Cnovris potrebbe decidere di mettere le carte in tavola e, se divorzio dovrà esserci, quale momento migliore per annunciarlo? I due diretti interessati, invece, continuano a tacere. Le voci sul loro conto si moltiplicano, a JZ è stato perfino attribuito un flirt extra coniugale con Rihanna, ma loro continuano a tenere la bocca cucita. Ed è questo che, più di tutto il resto, desta i sospetti più pericolosi. Se davvero non c'è una rottura in corso, perché non smentirlo con chiarezza? Chi se ne frega!